Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un corso in miracoli. Oggi iniziamo il quinto ripasso e adesso ti leggerò il testo introduttivo. È da ascoltare e riascoltare durante la pratica perché crea uno spazio recettivo, uno spazio fertile a queste parole e ci permetterà di andare al di là di esse, fino ad arrivare al loro vero significato. Ci permetterà di fare un'esperienza più profonda di qualcosa che abbiamo già letto e ci sembra di aver già vissuto. Possiamo andare al di là perché queste parole non sono altro che aiuti e sono utili per ricordare alla mente il suo scopo. Però la vera esperienza è sempre al di là di esse. Iniziamo. Introduzione al quinto ripasso Ora ripassiamo di nuovo. Questa volta siamo pronti a dedicare uno sforzo maggiore e più tempo a ciò che intraprendiamo. Riconosciamo che ci stiamo preparando per un'altra fase di comprensione. Faremo questo passo completamente, così che possiamo procedere più sicuri, più sinceri, con fede più salda. I nostri passi non sono stati decisi e i dubbi ci hanno fatto camminare in modo incerto e lentamente sulla strada stabilita da questo corso. Ma ora acceleriamo perché ci avviciniamo ad una certezza più grande, ad uno scopo più saldo e ad un obiettivo più sicuro. Padre nostro, rendi più sicuri i nostri passi. Fa che i nostri dubbi si acquietino e che la nostra mente santa sia tranquilla e parlaci. Non abbiamo parole da offrirti. Vorremmo solo ascoltare la tua parola e farla nostra. Guidaci nella nostra pratica come un padre guida un bambino piccolo lungo un cammino che non comprende, ma egli segue, certo di essere al sicuro perché suo padre lo guida nel cammino. Così portiamo a te la nostra pratica e se inciamperemo tu ci rialzerai. Se dimenticheremo il cammino, contiamo sul tuo sicuro ricordare. Devieremo, ma tu non dimenticherai di richiamarci. Rendi più veloci i nostri passi ora, così che possiamo camminare con maggiore sicurezza e più rapidamente verso di te. Ed accettiamo le parole che tu ci offri per unificare la nostra pratica, mentre ripassiamo i pensieri che tu ci hai dato. Questo è il pensiero che deve precedere i pensieri che ripassiamo. Ognuno chiarisce semplicemente qualche aspetto di più di questo pensiero o fa in modo che sia più significativo, più personale e più vero e più descrittivo del santo sé che condividiamo e che ora ci prepariamo a conoscere di nuovo. Questo è il pensiero. Dio è solo amore e quindi questo è quello che io sono. Solo questo sé conosce l'amore. Solo questo sé è perfettamente coerente nei suoi pensieri. Conosce il suo creatore, comprende se stesso. È perfetto nella sua conoscenza e nel suo amore. E non cambia mai dal suo stato costante di unione con suo padre e con sé stesso. Ed è questo che aspetta di incontrarci alla fine del viaggio. Ogni passo che facciamo ci porta un po' più vicino. Questo ripasso accorcerà smisuratamente il tempo se teniamo a mente che questo rimane il nostro obiettivo e mentre facciamo pratica è a questo che ci stiamo avvicinando. Innalziamo i nostri cuori dalla polvere alla vita. nel ricordare che questo ci viene promesso e che questo corso è stato inviato per aprirci il sentiero della luce e insegnarci passo dopo passo come ritornare all'eterno sé che pensavamo di aver perduto. Io compio il viaggio con te perché per un po' condivido i tuoi dubbi e le tue paure affinché tu possa venire a me che riconosco la strada attraverso la quale vengono superati tutti i dubbi e tutte le paure. Camminiamo insieme. Io devo comprendere l'incertezza e la sofferenza anche se so che non hanno alcun significato. Tuttavia, un Salvatore deve rimanere con coloro a cui insegna e vedere ciò che essi vedono pur serbando nella sua mente la strada che lo ha condotto fuori e che ora ti condurrà fuori con lui. Il figlio di Dio non sarà crocifisso finché tu non camminerai lungo la strada con me. La mia risurrezione avviene di nuovo ogni volta che conduco un fratello a sicuro nel luogo dove il viaggio finisce ed è dimenticato. Io mi rinnovo ogni volta che un fratello impara che c'è una via d'uscita, la sofferenza e dal dolore. Rinasco ogni volta che la mente di un fratello si rivolge verso la luce in lui e mi cerca. Non ho dimenticato nessuno. Aiutami ora a ricondurti nel luogo dove il viaggio fu iniziato per fare con me un'altra scelta. Liberami mentre fai pratica un'altra volta con i pensieri che ti ho portato da colui che vede il tuo amaro bisogno e conosce la risposta che Dio gli ha dato. Insieme ripassiamo questi pensieri. Insieme dedichiamo ad essi il nostro tempo e il nostro sforzo ed insieme li insegneremo ai nostri fratelli. Dio non vuole che il cielo sia incompleto. Egli ti aspetta come ti aspetto io. Io sono incompleto senza la tua parte in me. E nel momento in cui vengo completato andiamo insieme alla nostra antica dimora preparata per noi prima che esistesse il tempo poi mantenuta e inalterata dal tempo immacolata e sicura come sarà alla fine quando il tempo sarà compiuto. Che questo ripasso sia quindi il dono che mi fai perché solo di questo ho bisogno che tu voglia udire le parole che pronuncio e le doni al mondo. Tu sei la mia voce i miei occhi i miei piedi le mie mani attraverso i quali io salvo il mondo. Il sé dal quale ti chiamo non è che il tuo. Andiamo insieme a lui. Prendiamo la mano di tuo fratello perché questo non è un cammino che percorriamo da soli. In lui io cammino con te e tu con me. Nostro padre vuole che suo figlio sia uno con lui. Che cosa di ciò che vive non deve quindi essere una cosa sola con te. che questo ripasso diventi un momento nel quale condividiamo un'esperienza nuova per te eppure antica come il tempo ed ancora di più. Sia santificato il tuo nome la tua gloria senza macchia per sempre ed il tuo completamento sia ora totale come Dio lo stabilì. Tu sei suo figlio che completi la sua estensione con la tua. Noi pratichiamo semplicemente un'antica verità che conoscevamo prima che l'illusione sembrasse reclamare il mondo. E ricordiamo al mondo che esso è libero da tutte le illusioni ogni volta che diciamo Dio è solo amore e quindi questo è quello che io sono. Con questo iniziamo ogni giorno il nostro ripasso. Con questo iniziamo e terminiamo ogni periodo di pratica. E con questo pensiero dormiamo per svegliarci ancora una volta con queste stesse parole sulle nostre labbra per salutare un nuovo giorno. Ogni pensiero che ripassiamo lo circondiamo con esso ed usiamo i pensieri per trattenerlo nella nostra mente e chiaro nel nostro ricordo per tutta la giornata. E così quando avremo terminato questo ripasso avremo riconosciuto che le parole che pronunciamo sono vere. Tuttavia le parole non sono altro che aiuti da usarsi tranne che all'inizio e alla fine dei periodi di pratica solo per ricordare alla mente secondo la necessità il suo scopo. Riponiamo la nostra fede nell'esperienza che deriva dalla pratica e non nei mezzi che usiamo. Aspettiamo l'esperienza e riconosciamo che la convinzione sta solo qui. Noi usiamo le parole e tentiamo e ritentiamo di andare al di là di esse fino al loro significato che è ben oltre il loro suono. Il suono diventa indistinto e scompare man mano che ci avviciniamo alla fonte del significato ed è qui che troviamo riposo. Al punto 9 dice il sé dal quale ti chiamo non è che il tuo. Io ti invito ci invito ad andare al di là delle parole di quelle parole che forse ancora ci creano contrazione e andare al di là perché quando leggo il sé dal quale ti chiamo non è che il tuo è come se la vita iniziasse e finisse in te perché tu sei la vita e la vita è te. Non c'è niente di separato tu non sei una persona con un corpo che vive qui e ha determinati valori ha determinati obiettivi ha una determinata funzione ha una determinata forma un determinato carattere tu sei molto di più e questo senso che tutto inizia e finisce con te dà un senso di infinito qualcosa che non può essere descritto a parole né concepito dalla mente pensante dell'ego andiamo al di là in questa lezione di introduzione al ripasso sono chiare due cose una è che non siamo soli c'è qualcosa di più grande che ti tiene la mano c'è qualcosa dentro di te che ti fa rimanere qui e che ti accompagna Dio quella parola che leggi nel testo non è qualcosa di lontano lascia che ci sia qualcosa che ti guidi dentro come dice il testo come un padre che guida suo figlio per un cammino che non conosce ma comunque si sente sicuro ricordiamo che esiste qualcosa di perfetto un amore perfetto esiste uno spazio di silenzio esiste uno spazio senza giudizio esiste uno spazio senza tempo e non è lontano però non si può esprimere a parole però esattamente questo posto che non si può esprimere a parole è la tua casa è la nostra casa è il nostro luogo sicuro che questo ripasso possa aprire dentro la nostra mente e dentro il nostro cuore più spazio più casa e che possa allontanare qualsiasi proiezione che continua a farci percepire che la sofferenza è reale in quei momenti ricordiamo che Dio è solo amore e quindi questo è quello che io sono per cui questo che io sto percependo e che mi sembra di vivere non è reale non è la verità con questo ripasso continuiamo a dedicare del tempo al risveglio e prima di andare a dormire da dieci minuti ma di più fino a quanto tempo tu senti e poi durante il giorno più spesso possibile ogni ora ricordando l'idea centrale Dio è solo amore quindi questo è quello che io sono e poi le idee di ripasso che ci servono per come dice il testo per fare queste idee un po' più dettagliate per renderle un po' più personali dedichiamoci uno spazio di quiete per questo ripasso e ricordiamo che l'esperienza non è nelle parole ma in ciò che c'è dietro c'è qualcosa che sta molto più in là di esse che ci sta chiamando buon ripasso che c'è dietro